Siamo con padre Paolo Fiasconaro, responsabile del centro missionario francescano su Lungoltevere Roma 2015. Buonasera padre, ci racconti questo stand e quello che è la vostra presenza qui alle rive del Tevere? Sì, noi per il secondo anno siamo qui sulle banchine del Tevere per testimoniare l'invito di Papa Francesco che invita la Chiesa e il popolo di Dio ad uscire dalle proprie realtà per andare in mezzo alla gente. È proprio un invito pressante, una Chiesa in uscita, una Chiesa che va verso le periferie esistenziali dell'umanità e credo che le banchine del Tevere sono una periferia della Roma estiva. Il nostro centro è qui grazie alla grande disponibilità del dottor Marsili che ci ha messo a disposizione uno stand e noi la sera diamo la possibilità agli ospiti che vengono qui sulle banchine di far conoscere le realtà missionarie. Noi frati minori conventuali siamo presenti in 40 paesi del mondo e questa è una bella occasione perché la gente che passa può rendersi conto di come i francescani vivono le loro realtà in terra di missione. E a proposito della vostra attività, padre Paolo, vogliamo approfondirla? Ci puoi illustrare e far conoscere cosa fate nel dettaglio? Ecco, l'incontro col passante, con colui che la sera passeggia qui sulle banchine è quello di donare loro un Deplian. Nel Deplian è descritto tutta l'attività che il centro missionario porta avanti. In particolare si tratta delle adozioni a distanza, si tratta anche della formazione dei futuri sacerdoti che poi diventeranno missionari, si tratta dell'aiuto ai lebrosari, noi missionari specialmente in Zambia curiamo diverse lebrosarie, ospedali, promozione per gli infermieri professionali. Ecco, sono tante le attività. Siamo presenti in 40 paesi del mondo, nei 5 continenti, e il nostro essere qui vuol testimoniare che ci siamo. È una chiesa viva, una chiesa come dicevo prima in uscita, una chiesa che attraverso il centro vuol far conoscere quello che i francescani oggi realizzano nel mondo. È l'evangelizzazione di strada, ma è anche un entrare dentro il significato di una presenza, di una testimonianza che diventa ogni giorno e sempre di più per noi urgente avvicinare il lontano. E parlando sempre di missioni nel mondo, Padre Paolo, qual è la nazione o il posto, l'area geografica dove voi, più delicata dove voi siete presenti? Ecco, certamente è il Libano che si trova in una zona al centro del Medio Oriente, lì abbiamo tre comunità e i padri, possiamo dire, che lavorano a rischio. Poi sappiamo che i francescani sono i custodi della Terra Santa, è un luogo molto caldo, però grazie ai francescani se oggi i luoghi santi sono aperti a tutta la cristianità, anche a tutto il mondo, è perché i custodi della Terra Santa da secoli sono stati sempre i francescani. Altri luoghi caldi sono i paesi dell'Africa, specialmente in Burkina Faso, in Zambia, siamo presenti anche nel Malawi, in Tanzania, dove in questo momento stiamo costruendo dei pozzi, perché è un tempo di molta siccità e quindi ci chiedono aiuto. Questi deplen che noi diamo alle persone ci aiutano un po' per quelle iniziative concrete che danno visibilità a quelle che i francescani oggi compiono. Proprio questa mattina sono stato in Vaticano con un gruppo di ragazzi ciclo, moto, amatori, i quali hanno a cuore il discorso missionario e pensi che hanno fatto un viaggio dalla zona del Napoletano, qui a Roma, per essere presenti a Piazza San Pietro, ma soprattutto per aiutare le missioni francescane. Il ricavato della loro gita, del loro essere qui a Roma, sarà devoluto tutto per le missioni francescane. Allora, per concludere, ricordiamo dove vi trovate con questo stand a lungo il Tevere Roma, già dalle immagini si può capire, siamo di fronte all'isola meravigliosa, all'isola Tiberina, dall'altra parte, dall'altra sponda del Tevere, quindi, prego Padre Paolo, lo ricordi bene esattamente lei, l'indirizzo? Sì, noi siamo tra il Ponte Garibaldi e il Ponte Cestio, lo stand è proprio al centro del movimento, proprio del clou dell'estate romana, vediamo che la gente passa, si ferma, fa le domande ai sacerdoti, si interessa dove noi siamo, ecco, è un momento importante per essere vicini a loro, noi a loro e loro a noi, perché solo così possiamo testimoniare che ci siamo, solo così possiamo dire alla gente che i francescani sono vicini alle persone che soffrono attraverso la testimonianza, attraverso il pagare di persone nei luoghi missionari.